La gente vuol sapere, la gente vuol sapere, chi noi siamo, glielo diciamo, glielo diciamo, chi noi siamo, chi noi siamo, siamo la nata nero azzurra, e mai nessuno ci leggerà, noi saremo sempre qua quando l'Inter giocherà, perché l'Inter è la squadra degli ultra, nero azzurro è colore che abbiamo, nero azzurro se è tutto per noi, assassino l'Italia e l'Europa, se la fede è di noi degli ultra. Oh 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 Grazie.